Bastards Secondo me Fabro è un morto che parla Ha lasciato quella fish del casino Vuol dire cercateli Il club dei 27 li conosci? Quando sono morti Abbiamo tutti l'accennino bianco Come lei sa davanti a queste lezioni del casino Ci sono persone che danno soldi in prestito Che ne ha bisogno L'accennino bianco La vittima sappiamo che non fuma E le impronte che ha trovato non sono le sue Eh? Dottor, le piace? Si ricorda che Lila aveva promesso al questore? Noi allora abbiamo pensato Non avete fatto un regalo Che cazzo di regalo? Lo sono pagato da su Rocco Schiavone De luni până vineri De la 10.30 seara La Canal de 2